La mia mamma è una cosa che non c'è la mia vita, che la ha spiegato la cartella, perché, perché romantica, perché dice, che non ci è deslastima, non è, che mi fa fare una punta, che non c'è un pizzo, che fa una schiena schiena, che risparmiano e fai, che non vuoi terminare, Grazie a tutti. Grazie a tutti.